Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, ebbene sì, il Guitto Zelensky, il Guittone Zelensky, sapete ci fu in Italia il grande poeta Guittone d'Arezzo, e poi adesso scopriamo che esiste anche Guittone da Kiev, il Guitto Zelensky, si fa per ridere ogni tanto una risata zaratustriana non guasta. Ebbene, il Guittone di Kiev, che ricorderete bene, non potrete mai dimenticarlo suppongo, è stato invitato a fare una videoconferenza al Festival di Sanremo, poi è stato revocato l'invito ed è stato letto un suo proclama di guerra, un suo dispaccio guerrafondaio alle due di notte, non demorde perché è stato invitato ora al Festival del Cinema di Berlino e ha fatto un videocollegamento. Quindi c'è stata davvero in quel caso la sua epifania serotina, il suo collegamento video al Festival del Cinema di Berlino, lì non hanno revocato l'invito, qualcuno direbbe i tedeschi sono più seri, qualcuno direbbe i tedeschi sono ancora più genuflessi, non lo so. Comunque si sono sorbiti il sermone del Guitto Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood e in effetti esordì come attore di una serie televisiva nota come Servant of the People, ma il titolo più opportuno sarebbe stato Servant of the American Ruling Class. Ebbene proprio lui, guittone da Kiev, di fatto si è esibito, o meglio ha recitato il solito copione scritto a Washington nel quale ha ribadito la funzione dell'Ucraina e quello che stupisce al di là di queste performance da Guitto del nostro signor Zelensky, attore nato con la N maiuscola, e il modo con cui l'Europa, o meglio i paesi europei, cadevericamente seguitino ad accoglierlo. Perché viene dato tanto spazio a questo guitto, guittone di Kiev? Come mai? La risposta è elementare, Watson direbbe il vecchio Sherlock Holmes, perché Kiev, o meglio il Guitto di Kiev, Zelensky è la marionetta di Washington. E poiché l'Unione Europea è subalterna in tutto e per tutto a Washington, deve essere subalterna anche al Guitto di Kiev, che di Washington è un'emanazione. Non so se è chiaro il passaggio. L'Unione Europea è sottomessa a Washington, e poiché il Guitto Zelensky è uomo di Washington, l'Unione Europea è sottomessa anche al Guitto di Washington. Non so se è chiaro la situazione. E quindi viene invitato al Festival di Sanremo, viene invitato al Festival di Berlino, gli assegneranno anche qualche premio adesso probabilmente. Chissà, bisognerebbe assegnargli il Telegatto come miglior teatrante della storia, anche se l'opera teatrale messa in scena purtroppo non è una commedia, come pure sembrerebbe sentendo i suoi discorsi, purtroppo è una tragedia perché sta cagionando molti lutti e molte morti purtroppo.